Costruita nel XVIII secolo ai piedi della montagna e rivolta verso l'incantevole mare di Palermo, Villa Ramacca è pronta per regalarvi un'esperienza nuziale da mille e una notte. Villa Ramacca dispone di una sala ricevimenti capace di accogliere fino a 160 commensali, ma la capienza della villa aumenta a ben 360 coperti se si utilizzano tutti gli spazi interni. Inoltre, per godere del clima mediterraneo e del panorama mozzafiato, potrete organizzare il vostro banchetto di nozze nel giardino o nella terrazza della villa, che dispongono di una capacità di, rispettivamente, 400 e 360 persone. Gli chef di Villa Ramacca creeranno per voi uno squisito menù personalizzato in base alle vostre esigenze, garantendovi la scelta di ingredienti di prima qualità e un risultato finale che soddisferà anche i palati più esigenti. Il personale sarà a vostra disposizione per curare nel minimo dettaglio i servizi di catering e banqueting, senza trascurare l'allestimento degli angoli speciali e a tema con il tipo di ricevimento che vorrete organizzare.